Ciao a tutti, oggi andremo ad aprire due pacchetti di Adrenaline di Russia 2018 Partiamo, prima con quello di Ronaldo, ma con quello di Messi Anderweiland Anderweiland, si Dormisi Rose Milivojevic Certi nomi Questa qua, quella speciale Cavani Normale L'abbiamo trovato Racing Stars Aspetta, se si chiama Racing Stars Sì E normale con Suarez coppia La speciale è Gabriel Jesus Racing Stars Ah no, spero, non abbiamo trovato Racing Stars Vabbè Gabriel Jones, del Brasile, secondo pacchetto Tony Grosso, della Germania, della Germania Della Dunesia, della Dunesia, della Dunesia, questa qua è quella speciale Goh succeeding Sidendale, questa qua è un anghun a mulch sabato Sì, come fox Questo video è stato un po' corto Perché comunque Solo due pacchetti Ciao a tutti